buongiorno cristiana buongiorno a chiunque ci seguirà in questa nostra intervista dove parleremo di sorgente gaia che è una nuova realtà nel territorio tra aprilia e ansio in realtà si proprio nel mezzo e è uno spazio olistico a disposizione di chiunque voglia creare seminari corsi e quant'altro in merito al mondo del benessere perché sorgente gaia da qualche settimana ha una iurta meravigliosa una iurta mongola meravigliosa dove appunto sta nascendo questa realtà bellissima qui nel nostro territorio cristiana è un'operatrice olistica counselor e si occupa ed è specializzata appunto come operatore di biorisonanza e quindi oggi siamo qui per parlare in nel modo specifico della biorisonanza e per spiegare alle persone che cos'è come funziona e come può aiutare a star nel benessere psicofisico gli passo la parola cristiana che ci spiega appunto che cos'è una biorisonanza buongiorno a tutti innanzitutto vorrei spiegarvi da dove nasce la biorisonanza perché è importante capire che non parliamo di cose astratte ma cose veramente concrete nel 1940 il nostro un fisico quantistico plank vinse il premio nobel dicendo tutto è vibrazione esattamente così le vibrazioni sono di molteplici eh livelli basse vibrazioni alte vibrazioni un sembrerebbe scienziato russo eh in seguito creò questa macchina era una macchina enorme negli anni cinquanta settanta eh con dei manipoli che utilizzava sia le frequenze che i campo elettri i campi elettromagnetici per andare a lavorare a distanza i militari che erano nei sottomarini quindi che non potevano essere curati in presenza questa eh macchina meravigliosa ci è stata tenuta nascosta ovviamente come c'è stato tenuto nascosto internet per diversi anni e successivamente eh è stata immessa sul mercato di noi comuni mortali fortunatamente io studio fisica quantistica da diversi anni quindi eh per me per risonanza ehm la la reputo la più adeguata è uno strumento meraviglioso sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista di riequilibrio energetico perché perché la macchina ha nel suo hardware tutte le informazioni relative al alle cellule all'ultrastruttura del DNA agli organi a qualsiasi cosa come funziona funziona che la macchina rileva anche a distanza tramite un campione genico apro chiudo parentesi il campione genico non deve essere capelli trattati ottinti unghie con lo smalto eccetera eccetera un campione genico deve essere pulito perché deve andare a rintracciare nel campo quantico quel DNA e quell'RNA di conseguenza si possono fare anche biorisonanza a distanza ma torniamo un passo indietro eh cosa fa la macchina? La macchina fa una scansione vera e propria di tutte le frequenze e dei vari organi e laddove trova una frequenza dissonante lo segnala lo segnala e ti e va anche a cercare il histologico il citologico l'origine di questa dissonanza che cosa succede? Che lì interviene l'operatore. Cosa fa l'operatore attraverso il suo intuito? Innanzitutto fa una valutazione di eh quanto può essere corretta la la dissonanza quanto può intervenire se è opportuno farlo perché in alcuni casi la segnalazione può essere di un qualcosa di pregresso quindi la macchina è una macchina eccezionale ma l'operatore deve essere più che preparato nel saperla interpretare eh qualora necessario si interviene con un per risonanza come ho detto prima con delle frequenze restituite dalla macchina per riportare le frequenze dell'organo allo stato di benessere lavoriamo molto sul campo energetico perché perché la malattia nasce nel campo emotivo si manifesta nel corpo energetico e poi alla fine nel corpo fisico quindi la macchina lavora su tre livelli viene aggiornata costantemente perché è in entanglement come si dice in fisica quantifica ovvero è connessa a tutte le macchine della specie che sono al mondo quindi raccoglie continuamente informazioni e infatti ogni volta è una non finisce mai di stupirmi è una scoperta addirittura eh di queste frequenze una chicca che ho scoperto recentemente ne parlava un magnaco agostiniano in un testo in latino antecedente al milleottocento quaranta quindi ermete trismegisto eh nei principi ermetici la legge di risonanza la legge di vibrazione quindi non stiamo parlando di niente di nuovo ma semplicemente della manifestazione attraverso la la macchina di un qualcosa di molto eh antico certo 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 che è stato chiaramente no riportato poi ai giorni ai giorni nostri potenziato chiaramente con gli strumenti che abbiamo a disposizione adesso quindi appunto di hardware parlavi di hardware hardware certo prima si faceva attraverso il suono quindi creando delle vibrazioni che corrispondevano a determinati hertz adesso invece siamo entrati proprio nello specifico della della cellula e della micro frequenza micro vibrazione io consiglio a tutti avendo esperienza personale ormai eh sulle spalle tante tante biorisonanze che si contano a migliaia eh che prima di andare a lavorare su un discorso biochimico è sempre opportuno valutare un discorso biofisico perché biorisonanza significa risuonare con la vita quindi andiamo a vedere in generale qual è lo stato di benessere energetico del fisico se del caso è opportuno rivolgersi allo specialista però è un passaggio successivo l'esame non è invasivo oltretutto si può fare anche a distanza con il campione genico vale la pena fare file di ore mesi anni per andare da uno specialista e fare mille giri facciamo il punto della situazione andiamo mirati laddove serve certo certo quindi se possiamo dire che la biorisonanza in qualche modo ci ci può aiutare a prevenire comunque eventuali disturbi eventuali disequilibri assolutamente sì perché riesce a vedere in anticipo quindi nel campo energetico quello che potrebbe ipoteticamente manifestarsi poi nel corpo fisico quindi sì a livello preventivo eccezionale e anche a livello di mutazioni genetiche familiari e non perché si interviene direttamente su dna l'unica cosa che ho riscontrato durante la mia esperienza è che ci sono alcune persone che non vogliono guarire e in quel caso né la biorisonanza né la farmacologia né nulla può intervenire perché la sicuramente è la più grossa barriera affinché l'equilibrio del nostro corpo possa essere raggiunto i cani invece visto che parlo dei nostri amati a quattro zampe e ho dedicato a loro una biorisonanza specifica proprio per l'amore che ho per gli animali spero prossimamente di poter comprare anche la biorisonanza per i gatti e per i cavalli per ora per i cani i cani hanno un feedback più veloce perché non hanno la schermatura della mente di solito rispondono alle frequenze non dico immediatamente ma insomma in un lasso di tempo molto veloce ottimo ottimo tra l'altro la biorisonanza per i cani è un nuovo acquisto direi insomma è da poco no che hai acquisito anche questo questo hardware e devo dire da quello per gli umani sicuramente sicuramente devo dire che io mi sono rivolta a cristiana proprio per il mio cane che ha avuto una tosse quella che si chiama la tosse dei canili e insomma si è risolta in pochissimi giorni senza prendere antibiotici e senza andare nemmeno dal veterinario perché comunque sapevo perché l'ha presa da altri cani che si trattava proprio di questo ma insomma è di una potenza veramente meravigliosa questa questa macchina ma io posso dire che per esperienza sia personale che di persone che mi circondano faccio un esempio stupido adesso andiamo incontro all'inverno cominciamo a mocciolare dal naso a starnutire eccetera si risolve tutto in una notte la sera il pomeriggio fa la biorisonanza la mattina dopo stai normale perché la biorisonanza che cosa fa anche va a rilevare tutti quei batteri virus e germi e in qualche modo li distrugge perché riportandogli la frequenza corretta per loro non c'è posto quindi anche sia a livello respiratorio che a livello generale che può essere un organo riproduttivo può essere l'intestino l'intestino purtroppo è la parte delle emozioni e quindi tende ho riscontrato una tendenza a trattenere questi batteri proprio perché molti di noi in questo periodo stanno trattenendo parecchie emozioni ma noi li andiamo a eliminare abbiamo addirittura trovato i vermi negli anni che erano anni che non si vedevano sì incidenti incidenti sì sì per quale motivo lo lasciamo a qualcun altro dirlo però eh questo è a livello anche cardiologico si fanno dei controlli eh importanti per controllare il flusso sanguigno il flusso sanguigno del del cervello le le carotidi insomma andiamo a vedere veramente tutto anche i denti se è per questo certo certo e mi dicevi tra l'altro una cosa che mi ha stupito che addirittura la biorisonanza può fare l'analisi delle del sangue sì con l'omeostasi biochimica non è una vera e propria analisi del sangue ma è una tendenza quindi quando io vado a fare uno screening vado a valutare anche se ci sono carenze vitaminiche se ci sono dei valori non perfetti e anche i marker tumorali quindi eh sì si fa anche l'omeostasi biochimica ovviamente vi dico non abbiate paura perché c'è una differenza sottile ma importante tra quella che noi chiamiamo medicina eh biochimica che è quella che conosciamo tutti quanti medicina eh fitoterapica o come volete e la biorisonanza la biorisonanza riesce a riequilibrare per risonanza anche il sangue quindi malattie genetiche nonché eh immunologiche nonché tante cose sono talmente tante che l'elenco potrebbe durare troppo tempo e vi annoierei insomma dovete venire a vederla con i vostri occhi eh ho notato una cosa invece molto carina che le biorisonanze a distanza spesso sono più efficaci perché la persona non non si condiziona guardando le immagini è una cosa che volevo dire però percepisce a distanza che sta succedendo qualcosa molto interessante Cristiano veramente quindi avere un equilibrio energetico buono ci permette di non essere aggrediti da quelli che sono gli agenti del freddo nel caso specifico perché siamo in autunno e comunque un check up ogni tanto sarebbe opportuno fare perché magari eh nella medicina classica si riesce a individuare la eh lo squilibrio solo ed esclusivamente una volta che è manifesto con la biorisonanza riusciamo a vederlo un lasso di tempo prima per poter agire in tempo certo certo e quindi l'invito che facciamo poiché eh sorgente Gaia quindi nello specifico Cristiano Aratto nel mese di ottobre ha eh messo così a disposizione la biorisonanza proprio come check up eh di prevenzione contro le malattie del freddo eh con uno sconto no? sì questa è un'iniziativa che ho fatto perché eh vorrei che la gente si volesse un pochino più bene e anche perché economicamente ehm come posso dire una visita dal dottore costa X con una cifra minima riusciamo andare a fare un check up completo e solo qualora necessario andiamo a dare i soldi ai mille alle mille indagini che ci fanno fare che prendiavi del sangue e cose del genere quindi eh e anche risparmiare visto che il periodo ci ci impone di essere un pochino più austeri bene bene quindi la biorisonanza per tutto il mese di ottobre con sconto venti per cento sì così state belli tranquilli per il freddo e non vi preoccupate che se vi viene il raffreddore ve lo curo io ho anche l'influenza o quello che sia mi è capitato un ragazzo che aveva un ragazzo che aveva 40 di febbre con tachipirina brufo in tutte queste medicine la febbre non scendeva mi arriva la sorella con i capelli eh gli abbiamo fatto la biorisonanza in tre ore erano tre giorni che aveva 40 di febbre in tre ore la febbre scisa a trentasette e tre è chiaro che lì non è stata sufficiente la biorisonanza ma siamo dovuti intervenire poi anche con il medico però in tre ore abbassare la febbre significa che il livello batteriologico è stato è stato proprio abbassato parecchio in tre ore certo certo ma infatti ebbene veramente una grande possibilità grazie per questa per questa insomma possibilità che diamo alle persone di avvicinarsi a questo strumento importante per conoscerlo e ripetiamo che eh sorgente Gaia si trova a eh via Stromboli e nel fa comune di Aprilia ma insomma si trova veramente in mezzo tra Aprilia e Anzio nella terra di mezzo nella terra di mezzo esatto tra Aprilia e Anzio e ha eh è presente sui canali social di Facebook come sorgente Gaia su Instagram eh lo stesso come sorgente Gaia e ha un canale YouTube che si chiama appunto sorgente Gaia e quindi diamo comunque l'appuntamento alle persone che vogliono provare la biorisonanza a contattarti se vuoi lasciare anche il tuo numero di telefono così è più semplice. il mio numero lo trovano comunque su sorgente Gaia comunque tre tre cinque sei cinque sette quattro zero nove sette e volevo dire anche alle persone che ancora nutrono dubbi in merito a questa cosa che su YouTube possono trovare migliaia di video con varie spiegazioni della biorisonanza quindi non è una cosa strana è una cosa che non viene nominata ma esiste già da diversi anni quindi non 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 parliamo di di cose astratte documentatevi se siete curiosi guardate i video e vi aspetto o altrimenti ti contattano per fare domande e chiedere ulteriori informazioni a disposizione esatto quante biorisonanze hai fatto finora una domanda lampo più o meno oltre le tre mila e cinquecento ecco ecco oltre le tre mila e cinquecento in tutta Italia quindi ho avuto dei grandi maestri grandi medici come grandi maestri quindi non non sono nata così per caso ho versato lacrime di sangue veramente per imparare e continuo ad imparare ogni volta è una scoperta ogni volta mi meraviglio e questo è per me una grande gioia e il mio contributo che posso dare all'umanità e ai cani che io amo tanto per il loro benessere tra le altre cose ci sono delle terapie che io faccio per accompagnare le persone anziane accompagnare che significa quando superiamo gli 80 anni i dolori purtroppo gli acciacchetti arrivano e queste persone ho notato che tenendole sotto controllo ogni mese e mezzo ogni due mesi hanno una qualità di vita migliore e la qualità di vita è importante molto importante perché ci fa vivere meglio e bene e ci fa assaporare meglio la vita bene 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 avevo tolto un attimo il microfono perché passava il camioncino e bene Cristiana grazie mille insomma abbiamo dato le informazioni in maniera molto precisa e naturalmente ricordiamo che chi vuole approfondire può prendere un appuntamento ti può contattare e di qua tutti siate curiosi esatto esatto la curiosità è una grande cosa grazie e al prossimo appuntamento grazie ciao